Dal 1 gennaio entrerà in vigore la fatturazione elettronica, un argomento che interessa molte imprese e ditte individuali del nostro territorio tra Cerveteri e Ladispoli. E a tal proposito Angelo Agalli, dottore commercialista, ha tenuto un incontro in Sala Ruspoli a Cerveteri, al quale hanno preso parte molti professionisti dei vari settori. Tante domande e molte riflessioni su cosa cambierà. Cambierà che dal 1 gennaio 2019 le attività produttive per quanto riguarda i rapporti business to business, cioè tra attività e attività, dovranno emettere questa nuova modo di fatturazione elettronica, non è più cartacea. Questo se ne liscia da una parte le procedure e dall'altra parte complica un pochino il modo operativo di emissione per le attività stesse. Sicuramente gli studi con questo tipo di procedura saranno sicuramente avvantaggiati in quanto alcune procedure vengono snellite e facilitate. La complessità genera di solito ricchezza di errori, cosa che questa procedura dovrebbe tendere a ridurli. Gli studi nel nostro territorio, diciamo, sotto questo aspetto si stanno ben preparando, so che terranno un altro convegno anche nel comune di Ladispoli. L'introduzione della fattura elettronica potrebbe essere un deterrente all'evasione fiscale, dunque più trasparenza. Diciamo, la razio della norma è proprio, diciamo, questo. La razio della norma è quello di semplificare, di avere maggiori conoscenze in modo tale di essere più certi sulle operazioni condotte, l'eventuale riduzione delle evasioni. Sicuramente lo spirito della norma è quello di ridurre le fro di carosello, le famose cartiere, dove da una parte vengono registrate le fatture e dall'altra parte no. Oggi, con questo sistema e in futuro sempre di più, l'Agenzia delle Entrate conoscerà tutte le fatture emesse nel Stato italiano. Grazie a tutti.